Che cosa serve per parlare bene con clienti e collaboratori? Come faccio per parlare in modo sicuro facendomi ascoltare davvero? E alla fine che cosa vuol dire parlare bene? Essere efficaci? Sì, ma cioè? Oggi vediamo come parlare bene, anzi meglio, e cioè come parlare con eloquenza nelle situazioni professionali. Vedremo i tre punti fondamentali dell'eloquenza e alla fine ti spiegherò il modo pratico per far sì che i tuoi collaboratori ascoltino la tua opinione. Che cos'è l'eloquenza? Parlare bene significa avere eloquenza. E una persona è eloquente quando 1. È dotata di facilità di parola, cioè parla facilmente. 2. È dotata di forza di persuasione, cioè si fa ascoltare e seguire dalle persone. 3. Esprime i propri pensieri e ottiene i risultati che desidera ottenere con efficacia. Io sono Stefano Todeschi, sono specialista in public speaking pratico. Con le mie consulenze aiuto imprenditori e manager a parlare per farsi ascoltare da clienti e collaboratori in ogni situazione professionale. Cominciamo! Punto numero 1 per parlare bene, anzi meglio, la facilità di parola. Hai presente quelle persone che si fanno ascoltare da tutti? Come ci riescono? Hanno sviluppato facilità di parola. Significa che a loro bastano poche frazioni di secondo per cominciare a parlare, a rispondere a qualcuno, a interagire e a dire la propria opinione liberamente. Per parlare bene dobbiamo fare come loro. E ora ti spiego in pratica come fare. Primo passaggio. Quando hai un'idea o un pensiero, abituati a esprimerli ad alta voce. In questo modo ti abituerai a costruire pensieri con un nesso logico fra le parti del discorso perché stai cercando un ipotetico destinatario. E infatti stai parlando a te stesso o te stessa. E sì, insomma, dovresti cominciare a parlare con te. Questo ha il vantaggio che potrai vedere meglio i tuoi pensieri. E potrai valutarli più facilmente perché dicendoli ad alta voce è un po' come se tu li mettessi nero su bianco. Se esprimi ad alta voce i tuoi pensieri, ti abitui a sentire la tua voce. E sai poi perché questo è determinante? Immagina di entrare in un palazzo e di salire le scale per raggiungere il decimo piano. Non so quanto tu sia allenato o allenata, ma dal quarto o dal quinto piano è possibile che tu cominci a sentire un certo affaticamento. A me succede già dal terzo. Prova ora a pensare le volte in cui ti è capitato di parlare molto e hai sentito affaticamento alle corde vocali. Magari hai sentito anche un abbassamento di voce. Proprio come salire le scale, anche parlare è un'attività fisica. Infatti le corde vocali sono costituite da cartilagine e muscoli. Ecco allora che se ti abitui a parlare ad alta voce, anche solo per esprimere i tuoi pensieri e le tue nuove idee, ti abitui anche a questa attività fisica, che consiste nel produrre suoni a parole che messe insieme acquisiscono significato e sono indispensabili per mandare il tuo pensiero ai tuoi collaboratori e magari ai tuoi clienti. Come passaggio successivo, ora costruisci il tuo repertorio di contenuti. Vediamo come farlo in pratica. Chi è il più esperto o la più esperta del tuo lavoro? Ovviamente sei tu. Fai un elenco di tre punti fondamentali su cui non puoi transigere perché il tuo lavoro sia fatto nel migliore dei modi possibili. Se ti chiedo un elenco, deve essere un elenco. Perciò non perdere tempo con grandi spiegazioni e argomentazioni. Ti chiedo di fare questo elenco per punti, dando solo un titolo molto semplice a ciascuno dei tre passaggi che per te sono fondamentali. Fatto questo, esprimi ad alta voce ciascuno dei tre punti. Puoi iniziare il tuo discorso più o meno così. I tre punti fondamentali su cui non posso transigere perché il mio lavoro sia fatto nel migliore dei modi possibili sono punto numero uno e lo descrivi supersinteticamente, punto numero due e lo descrivi supersinteticamente, e infine, ricordati di dire anche infine, punto numero tre e lo descrivi supersinteticamente. Ecco fatto il tuo primo repertorio di contenuti, peraltro contenuti che tu ritieni fondamentali. Nel passaggio successivo dovrai scegliere uno dei tre punti che hai appena descritto e dargli il ruolo di punto principale. Sarà cioè il più importante dei tre. Inizia dunque un nuovo discorso che potrebbe essere più o meno così. Vi sono diversi fattori indispensabili perché il mio lavoro sia fatto nel migliore dei modi possibili, e fra questi il fattore principale fondamentale è... e poi lo descrivi supersinteticamente. Adesso hai un doppio repertorio. I tre punti fondamentali di prima e il punto principale imprescindibile. Naturalmente puoi giocare a invertire i ruoli dei vari fattori, e quello che abbiamo fatto è semplicemente un pretesto per allenarti a parlare bene, anzi meglio, ad alta voce. Prima di passare agli altri due elementi fondamentali per parlare bene, e cioè la persuasione e l'efficacia, ti consiglio di iniziare a porre in relazione fra loro gli elementi del repertorio che hai appena creato. Per esempio, potresti dire che l'elemento imprescindibile è X, e che vuoi porre direttamente in relazione X con altri due elementi, e cioè Y e Z. Oppure, potresti cominciare rivaltando il percorso, e cioè dicendo che gli elementi Y e Z sono imprescindibili, è vero, ma ce n'è uno che è fondamentale, ancora più importante, e cioè X. Ti ho dato alcuni suggerimenti, e preferisco andare con calma e lasciarti lavorare liberamente. E considera che se vuoi approfondire la tecnica e gli strumenti che ti ho appena descritto, puoi farlo entrando nel mio videocorso Fatti Ascoltare Davvero. Trovi il link qui sopra, dove compare la IN, oppure qui sotto in descrizione. Passiamo al secondo punto, la forza di persuasione. E non so che molti potrebbero storcere il naso pensando magari che persuadere significhi ingannare le persone, ma ora ti spiego perché non è così. Persaudere viene dal latino suavere, con il significato di consigliare, convincere. E a sua volta deriva dalla parola suavis, che significa soave. In pratica, persuadere vuol dire rendere soave un discorso, cioè renderlo bello, renderlo piacevole per chi ci ascolta, cioè parlare bene, anzi, meglio. Ah, e si dice persuadere. Già la fluidità di parola allenata con gli esercizi che abbiamo visto poco fa ci permette di rendere piacevole il nostro discorso. Tutti preferiamo ascoltare una persona che parla in modo sciolto, leggero e facile da seguire. Ci sono poi altri fattori che rendono piacevole l'ascolto. Immagina di ascoltare una musica che si riduce ad essere semplicemente la ripetizione di un ritmo sempre uguale, senza nuove note. Qual è l'effetto? Ipnotico. Il ripetersi continuo dello stesso identico schema all'infinito ad un certo punto ci viene a noia e ci ipnotizza. È praticamente uno dei principi delle sonorità delle musiche dei riti sciamanici. E allo stesso modo, se una persona parla utilizzando lo stesso volume, la stessa intonazione, la stessa velocità, dopo poco ci viene a noia perché ci ipnotizza, perché ci fa perdere contatto con la realtà, con i nostri pensieri. E allora noi che cosa facciamo? Cerchiamo una distrazione per evitare di rimanere imprigionati in un ritmo che si ripete all'infinito. È indispensabile variare. Variare l'intonazione all'interno della frase. È indispensabile variare i volumi. È meglio parlare velocemente o è meglio parlare lentamente? Ma entrambi. Perché ci sono alcuni concetti che hanno bisogno di essere spiegati rapidamente o alcuni passaggi che necessitano di una certa velocità, mentre altri hanno bisogno di tempi più rallentati. per non parlare poi della necessità della pausa. Oppure del rallentamento prima della pausa. Ho già parlato di tutti questi temi in altri video. Li trovi qui, sul mio canale YouTube. E altri ne arriveranno. E perciò ti conviene anche iscriverti e attivare la campanella. Ma voglio sottolineare anche quanto sia importante l'uso dello sguardo. Per rendere piacevole un incontro, un dialogo e un'interazione fra persone è necessario guardarla negli occhi. Attenzione a evitare di inchiodare le persone con lo sguardo. Ogni tanto possiamo anche guardare altrove. C'è chi dà un numero di secondi massimo in base al quale bisognerebbe volgere lo sguardo altrove. Ma io, se fossi in te, non perderei tempo con questi meccanismi. Cercherei di fare le cose nel modo più semplice e naturale possibile. La prossima volta che parli con una persona fai attenzione a quanto lo guardi davvero negli occhi. Hai cercato di fuggire lo sguardo quanto più possibile? Ebbene, una volta successiva terrai conto di questo e cercherai invece di incontrare di più gli sguardi dei tuoi interlocutori o delle tue interlocutrici. Un altro punto fondamentale è l'uso della gestualità. Cicerone parlava di gestualità moderata, ma naturalmente il suo parametro era quello di un latino abituato a supergesticolare. Ricerche scientifiche hanno dimostrato che le persone comprendono meglio i discorsi di chi parla loro gesticolando. E altre ricerche sostengono che quando noi gesticoliamo liberamente mentre parliamo sentiamo di spiegarci meglio. Metti insieme le due cose sentiamo di spiegarci meglio e le persone che ci comprendono meglio e vedi come si attiva un circolo virtuoso. Anche di questo ho già parlato in altri video sempre in questo canale. Quello che voglio sottolinearti qui e soprattutto che dovremmo evitare è di gesticolare sottolineando ogni accento tonico della frase esattamente come sto facendo io adesso con lo stesso identico gesto noioso perché sarebbe l'equivalente di un ritmo musicale ripetitivo e avrebbe anche questo un effetto ipnotico. A proposito pubblicherò altri video su questo tema ti do un suggerimento iscriviti al canale e attiva la campanella. Quindi punto numero uno impariamo a osservare la nostra gestualità punto numero due cerchiamo di variarla notando se marchiamo gli accenti tonici delle parole e cerchiamo di andare oltre questo e vediamo ora l'ultimo elemento dell'eloquenza e cioè l'efficacia ma che cosa vuol dire essere efficaci? Quante volte l'abbiamo sentito l'uso di questa qualifica efficace? Ma troppo generico! Vediamo allora di semplificare pensaci bene quando parli con una persona perché lo fai? Supponiamo per esempio che un tuo collaboratore o una tua collaboratrice abbiano assunto un comportamento che ritieni inutile o sbagliato vorresti allora aiutare a correggere il comportamento per ottenere risultati migliori ecco che ti sei posto un obiettivo ma a volte può capitare che presi dall'emozione o dall'agitazione esprimiamo pensieri rivendicando i nostri bisogni magari sentiamo di avere subito un torto e vogliamo far valere le nostre ragioni e questa situazione è la più scivolosa in questi casi rischiamo che le nostre emozioni si ingigantiscano e il nostro orgoglio si frapponga fra noi e il vero obiettivo e probabilmente perdiamo di vista il vero obiettivo ti ricordi qual era? far sì che il collaboratore o la collaboratrice smettesse di assumere un comportamento sbagliato per iniziare a comportarsi nel modo più opportuno e utile in modo da ottenere i risultati migliori durante la collaborazione professionale il resto è personale e come tale dovrebbe rimanere durante l'interazione le emozioni potrebbero prendere il controllo allora in pratica i nostri interventi diventano efficaci quando 1 abbiamo ben chiaro l'obiettivo 2 abbiamo ben chiare le nostre emozioni nel momento in cui le stiamo provando o le abbiamo appena provate 3 abbiamo ben chiare i nostri bisogni umani 4 davanti a questi tre punti obiettivo emozioni bisogni sappiamo distinguerli e ci ricordiamo che per l'appunto abbiamo un obiettivo concreto da raggiungere e per raggiungere questo tipo di consapevolezza anche qui è necessario allenamento e l'allenamento consiste nel valutare gli obiettivi le emozioni i bisogni quanto più spesso possibile ma farlo in momenti in cui ti senti sotto stress se manca l'abitudine potrebbe essere quasi impossibile fare queste valutazioni quando sei predo delle emozioni forti senza il dovuto allenamento potrebbe portarti pochi risultati utili ti consiglio allora di abituarti a valutare obiettivi emozioni e bisogni a partire dai momenti in cui ti senti più sereno o serena per esempio oggi hai avuto un bello scambio con un tuo collaboratore una tua collaboratrice o con un cliente o una cliente fai un elenco veloce degli obiettivi delle emozioni e dei bisogni che sono entrati in gioco immagina di rivedere il filmato di ciò che è successo dall'inizio valutando questi tre elementi te lo ripeto obiettivi emozioni bisogni fallo più e più volte e poi adotta la stessa procedura quando vedi un'interazione fra persone fra altre persone in cui tu non intervieni direttamente osservare gli altri dall'esterno è uno strumento molto utile per la nostra consapevolezza personale trovi anche lo sviluppo di queste tecniche per parlare bene sempre nel mio videocorso fatti ascoltare davvero te l'ho già accennato prima riepilogando parlare bene anzi parlare meglio significa parlare con eloquenza e l'eloquenza si compone di tre fattori uno la facilità di parola che possiamo ottenere esprimendo i nostri pensieri ad alta voce e costruendo un repertorio dei nostri concetti fondamentali sempre parlando ad alta voce due la forza di persuasione che consiste nel rendere piacevole perché vario il nostro modo di parlare parlare bene significa rendere bello l'ascolto delle nostre parole ecco perché dobbiamo cercare di variare quanto più possibile il nostro eloquio gli elementi che abbiamo visto oggi sono variazioni espressive della voce della gestualità e dello sguardo tre l'efficacia del discorso e cioè avere ben chiaro qual è il nostro obiettivo distinguere l'obiettivo dalle nostre emozioni e dai nostri bisogni personali che cosa ne pensi di tutto questo scrivimelo qui sotto nei commenti e se ti è piaciuto puoi mettere un bel like iscriviti al canale attivando la campanella così non rischi di perderti i prossimi video se hai domande e curiosità scrivile nei commenti qui sotto leggo e rispondo personalmente e magari girerò video di approfondimento proprio sulle tue richieste ah e seguimi sul mio canale telegram dove troverai anteprime e il dietro le quinte dei video e iscriviti alla mia newsletter questo è il modo per ricevere corsi speciali gratuiti trovi tutti i link in descrizione buon divertimento a Grazie a tutti.